salve a tutti in questo video andremo a vedere i plugin freeze bellissimo plugin che in questo momento ho applicato alla webcam e mi permette di bloccare per un tot di secondi la webcam che senso ha adesso vi faccio un esempio immatinatevi che sto spiegando qualcosa e ho una reazione di wow ho fatto qualcosa di figo pure venuto male così è quella immagine mi piacerebbe usarla come fermo immagine non mi serve più fare post produzione allora adesso vediamo ho anche applicato uno shortcut premo contro alt e ok ho messo le mani una posizione a casaccio mi sello carta la webcam e si blocca per cinque secondi quindi questo è il giochetto e ci possono separare sopra con la ferma immagine quindi non è che si finita tutto obs studio il resto del video e dell'audio si muove adesso andiamo a vedere con calma e per bene come si installa e andiamo a vedere la pagina di obs studio ufficiale nella quale si scarica il plugin allora bsstudio.com slash forum resources frizz meno filter punto 950 qua sotto nella descrizione del video ci sarà il link quindi non preoccupatevi e poi se notate in alto a destra c'è download da lì vi scaricate la vostra versione per windows mac e linux e non vi dovevo spiegato la posizione doveva copiato il plugin per farlo funzionare questo è per l'installazione dopo che si ha fatto l'installazione si può aprire obs studio perché vi ricordo che il filtro va installato con obs chiuso in modo che il filtro poi possa essere visto da obs quando si apre adesso vediamo come si applica allora io lo voglio applicare alla mia webcam quindi ho una scena che contiene solo la webcam infatti la mia scena si chiama webcam lo posso applicare direttamente sulla scena tasto destro filtri quando aprirò la sezione filtri posso fare più e se il filtro è stato copiato nel posto giusto vedrò freeze allora esiste lo metto e lo lascio così com'è cioè disabilitato poi le impostazioni non sono già standard le vediamo adesso come le ho impostate io allora ho messo su maximum duration 5000 millisecondi cioè cinque secondi praticamente in modo che il filtro 12 secondi cioè il freeze bloccato poi siccome devo prendere uno shortcut poi mettere le mani in testa nel mio esempio è questo ho messo un ritardo di un secondo cioè il tempo di levare le mani dalla tastiera e poi così per il resto non ho toccato il mask e ho messo come action activate disattivate enable e disable e stessa cosa sul show hide enable e disable close poi sono andato nelle impostazioni scorciatoie ho cercato la scena che si chiama webcam eccola qua e ci troviamo la voce di enable e disable nel mio caso non mi serve disable perché l'enable dura cinque secondi poi ci disabilita da solo quindi ho scelto contro l'altra e come scorciatoia e ho fatto ok adesso possiamo tornare con la niente zoom adesso mi rimetto centrale e può essere una grande cosa bellissima ho la faccia da sgomento faccia da sgomento non è venuta neanche perché ho solo le mani e la bocca chiusa quindi posso riprovare qua eccola qua questa può essere una faccia da sgomento ecco questa è l'idea del plugin come può essere utilizzato se avete altre idee su come può essere utilizzato questo plugin scrivetemelo qui sotto sui commenti perché così magari posso fare un video integrativo utilizzando le vostre idee per questo video è tutto